Assessore, voi siete venuti qua a sostegno del soppersolidarità a Crotone, la situazione è sempre critica soprattutto dal punto di vista economico. Qual è l'impegno che questa giunta metterà in campo? Già ieri abbiamo deliberato lo stato di crisi e calamità naturale, c'è stato anche il capo della protezione civile nazionale, ci sono strumenti ormai consolidati che grazie a Dio nel tempo funzionano, per cui c'è la valutazione dei danni da parte di tutte le aree dei comuni, Crotone, Isola, Strongo, in tutte le aree interessate, la richiesta ovviamente di fare velocemente, che questo è un anno terribile, che prima passa e meglio è, insomma, chi poteva immaginare di trovarci il Covid e tutte queste emergenze stanno accumulando. Siamo qui, diciamo, è ovvio un fatto di solidarietà, la presenza di tutta la giunta, ma anche un fatto di capire noi che cosa, rispetto a quello che abbiamo già fatto come strumenti di aiuti riguardavano il Covid, possiamo fare in questo momento straordinario. Ci pare di capire, perché ieri anche prima della giunta, la presenza del Ministro Boccia, che ringraziamo, perché avrà presenza così tempestiva dello Stato, che gli aiuti, ci hanno spiegato, arriveranno subito 5 mila euro ogni famiglia e 25 mila euro alle imprese, e questa è una cosa, si occuperà la protezione civile, che ormai è standardizzata, valutando questi danni e provando a uscire da, ripeto, ti cadono le braccia, nel senso che normalmente uno già deve, in situazioni difficili, affrontare temati edifici per questa terra, ma ribadisco, non ha battuto, ma vale per i clotonesi, vale per tutti i calabesi, per tutta Italia, prima passa quest'anno e meglio è. Poi noi ovviamente siamo impegnati, quello che potremmo fare anche rimodulando risorse europee, che hanno una tecnicalità di spesa, mi piace chiarirlo, diverse diciamo dallo Stato, perché noi ogni bando, ogni intervento significa produrre un lavoro straordinario, però passerà, c'è questo impegno, le condizioni oggi sono già migliori da questa intemperia, tutto ci potevamo aspettare che aggiungere anche questo, dopo la morte della Presidente, insomma, dopo tutto quello che abbiamo osservato, non ci perdiamo d'animo e andiamo avanti e continuiamo a lavorare.